Musica Bentornato Guglier, bentornata Finalmente ci aggiorniamo a terminare tutti i programmi presenti nel pannello di controllo Ora parleremo di Windows Update A cosa serve? Naturalmente a mantenere aggiornato e quindi sicuro il tuo sistema operativo Gli aggiornamenti sono dei programmi che si aggiungono a quelli che già sono presenti nel sistema operativo che possono risolvere dei problemi oppure anche fornire implementazioni ai programmi già esistenti sul tuo computer La Microsoft rilascia gli aggiornamenti normalmente il primo martedì di ogni mese a meno di urgenze di sicurezza e quindi immediatamente rilasciati Come accedi alla sezione? Potrebbe non essere subito necessario attingere a questa sezione se eventualmente è già attivata l'installazione automatica degli aggiornamenti In tal caso avrai il download e l'installazione degli aggiornamenti senza che tu dovrai far nulla Altra possibilità, quella che personalmente adotto è che delle impostazioni notificano nella Sistray, quella accanto all'orologio, la presenza di aggiornamenti e un intervento manuale sarà necessario accedendo alla sezione per la gestione cosa che normalmente fai cliccando sul pulsante Windows Update nella sezione del pannello di controllo A questo punto potrai avere diversi scenari Quello possibile è quello rappresentato da questo screenshot nel quale dovrai cliccare semplicemente sul pulsante Controlla aggiornamenti che equivale anche a questo pulsante alla sinistra In questa fase naturalmente si avvierà una ricerca automatica tramite Inter della presenza di aggiornamenti per il sistema operativo Voglio sottolineare questa cosa che il controllo degli aggiornamenti non è comunque relativo a tutti i programmi installati sul tuo computer ma solo quelli relativi alla Microsoft Ciò significa che gli altri programmi che hai installato all'interno del sistema operativo necessitano di un controllo per gli aggiornamenti Normalmente sono già attivi e comunque puoi controllare le opzioni di controllo degli aggiornamenti all'interno delle preferenze o delle opzioni avanzate dello specifico programma Il tempo di controllo degli aggiornamenti per quel che riguarda la Microsoft non è preventivabile in quanto ciò è relativo alla quantità di aggiornamenti lasciati e al peso degli stessi Dopo qualche secondo, eventualmente qualche minuto otterrei una risposta affermativa nel caso fossero presenti gli aggiornamenti con uno screenshot tipo questo nel quale dovrai cliccare sul pulsante install aggiornamenti In questo esempio dalla scansione saranno stati rilevati 112 aggiornamenti importanti e 76 aggiornamenti facoltativi Occhio a questi due pulsanti che a breve te ne parlerò La cosa da non sottovalutare è il peso di questi aggiornamenti Anche la durata del processo naturalmente di download ed installazione dipende dal peso e dalla quantità degli stessi Alternativamente, come detto, potrai cliccare sul pulsante aggiornamenti importanti o facoltativi ed accedere alla lista degli stessi ed operare la selezione manuale in base alle tue necessità quello che io prediligo maggiormente Infatti, così potrai evitare di installare aggiornamenti di programmi che non hai installati sul tuo computer oppure che mai utilizzerai Qui è riportato uno screenshot della lista di eventuali aggiornamenti disponibili Quindi tu potrai o selezionarli tutti o selezionare quelli che ritieni necessari all'utilizzo Qui sulla destra hai una descrizione dell'aggiornamento che avrai selezionato Seleziona quindi l'aggiornamento con il mouse Deselezionano se non rientra nella pratica del tuo utilizzo Terminata la verifica Terminato il controllo Ricordati di cliccare su OK in basso a destra per avviare il download e l'installazione A termine potrebbe esserti richiesto il riavvio del computer per completare l'installazione stessa Altrimenti avrai semplicemente la notifica che gli aggiornamenti o l'aggiornamento è stato portato a termine con successo In caso di richiesta di riavvio sia la fase di spegnimento che di riaccensione dureranno più del solito per la preparazione e l'installazione dei programmi degli aggiornamenti che hai selezionato e ciò potrai renderti conto perché il sistema operativo ti notificherà con una sequenza numerica o percentuale dello stato di avanzamento dei lavori quindi dell'installazione degli aggiornamenti un esempio può essere quello numerico di aver raggiunto l'installazione del secondo programma del secondo aggiornamento su un totale di 7 Se spegni il computer oppure viene tolta alimentazione in questa fase potresti rilevare dei problemi al riavvio del sistema operativo in quanto una fase critica in quanto gli aggiornamenti metteranno mano al registro del sistema operativo Dopo aver portato a termine gli aggiornamenti potresti avere la notifica di ulteriori aggiornamenti disponibili questo accade non perché il sistema operativo non abbia potuto accedere agli stessi in un'unica soluzione ma alcuni aggiornamenti possono essere installati solo dopo aver verificato la presenza di altro software all'interno del tuo sistema operativo Quando avrai notificato gli aggiornamenti potrai accedere alla lista degli stessi e verificarne la tipologia Questa tipologia si suddivide in importanti, consigliati e facoltativi Premessa Tu in quanto utente hai l'autorità e libertà di decidere anche di non installare mai se vuoi gli aggiornamenti oppure installarli senza controllare I primi aggiornamenti riguardano sicurezza privacy e miglior affidabilità dei programmi quelli importanti quindi sono essenziali I secondi, quelli consigliati risolvono dei problemi che non sono critici e possono migliorare il funzionamento del sistema operativo quindi non sono obbligatori mentre gli aggiornamenti facoltativi potrebbero riguardare driver oppure nuovi programmi rilasciati dalla Microsoft per migliorare l'esperienza d'uso del sistema operativo e del suo funzionamento Gli aggiornamenti facoltativi li puoi installare soltanto manualmente Altre opzioni certo ce ne sono infatti nella zona di sinistra troverai altri pulsanti per impostare dei parametri nella sezione Windows Update come il pulsante Cambia Impostazioni che ti permetterà di accedere ad una sezione nella quale potrai scegliere se e come installare gli aggiornamenti Per gli aggiornamenti importanti hai un menu a tendina che ti consente di installare gli aggiornamenti automaticamente scaricare gli aggiornamenti ma consentire a te se installarli oppure verificare gli aggiornamenti ma lasciare la scelta a te se scaricarli ed installarli infine non verificare mai la presenza di aggiornamenti a te la scelta su come selezionare questo menu a tendina hai anche altri segni di spunta come scaricare eventuali aggiornamenti consigliati allo stesso modo degli aggiornamenti importanti oppure altra cosa in base al numero di udenti che accedono al computer consentire se l'installazione degli aggiornamenti su questo computer può essere libera a tutti oppure se in qualità di amministratore devi eseguirla soltanto tu altra opzione che potessi trovare quella di scaricare gli aggiornamenti di tutti i prodotti della Microsoft e verificare la disponibilità di programmi facoltativi durante l'aggiornamento del sistema operativo ultima possibilità è quella di selezionare una visualizzazione di notifica dettagliate quando è disponibile un nuovo software rilasciato dalla Microsoft come visto può avere diversi segni di spunta da poter selezionare o deselezionare per completare la certà delle impostazioni altra possibilità è quella di visualizzare tramite un pulsante la cronologia degli aggiornamenti che hai installato qui una piccola rappresentazione di quelli installati su un determinato computer in questa schermata trovi anche il pulsante aggiornamenti installati che ti consentirà di visionare quali aggiornamenti dei programmi della Microsoft sono stati aggiornati ed eventualmente disinstallarli cliccandoci sopra due volte oppure accedendo alla sezione programmi e funzionalità qui uno screenshot di rappresentazione di due programmi forniti dalla Microsoft il successivo pulsante sulla sinistra è ripristina aggiornamenti nascosti ti permette di portare di nuovo in visione gli aggiornamenti che ritenevi non necessari e che avvi nascosto qui un esempio di tre aggiornamenti che io ho simulato di nascondere questo perché nella lista degli aggiornamenti trovati dopo la ricerca hai l'opportunità di non far più notificare la presenza di alcuni tipi di aggiornamenti che ritieni non necessari come possono essere quelli che riguardano programmi che non utilizzi oppure che non sono installati nel tuo sistema operativo così se ti fossi sbagliato se ti fossi sbagliata potrai riportare in visione questi aggiornamenti che avevi in precedenza nascosto infatti se sugli aggiornamenti della lista generale tu noti qualche programma o qualche aggiornamento che non deve essere installato sarà sufficiente cliccare con il pulsante destro del mouse e dal menu che si seleziona cliccare sul pulsante nascondi aggiornamento e dalla successiva ricerca non sarà più mostrato in visione questo aggiornamento specifico l'ultimo pulsante domande frequenti sugli aggiornamenti ti apre una guida in linea del sistema operativo che ti permetterà di ottenere ulteriori informazioni della sezione Windows Update Andiamo a vedere l'ultima parte del pannello di controllo in questo caso Windows Update cliccando su questo pulsante accedi alla sezione per gli aggiornamenti puoi avere diversi scenari in questo caso quello che si presenta a schermo ti invita ad installare gli aggiornamenti perché sono stati trovati nel sito della Microsoft l'alternativa potrebbe essere quella di cliccare sul pulsante controlla aggiornamenti oppure se a posto di questa sezione troverai appunto il pulsante controlla aggiornamenti prima di eseguire il controllo andiamo a vedere come cambiare le impostazioni da questa sezione puoi selezionare tramite un menu a tendina di installare gli aggiornamenti in maniera automatica che è la scelta consigliata oppure scaricare gli aggiornamenti ma consentire all'utente di scegliere se installarli ancora verificare la disponibilità degli aggiornamenti ma consentire all'utente di scegliere se scaricarli e installarli oppure non verificare mai la disponibilità di aggiornamenti a te la scelta in base al tuo utilizzo io direi di selezionare la verifica della disponibilità degli aggiornamenti e consentire a noi utenti di scegliere sia se scaricarli che installarli altra opzione è la possibilità di scaricargli gli aggiornamenti consigliati allo stesso modo degli aggiornamenti importanti ma questa è un'opzione che sottolino dato che sono aggiornamenti consigliati potrai decidere con più elasticità altra possibilità è consentire l'installazione di aggiornamenti in questo computer a tutti gli utenti nel caso in cui sei soltanto tu l'utilizzatore o comunque nell'ambito della tua famiglia ovviamente eviterei di apporre il segno di spunta altrimenti se siete un gruppo di persone allora creerai diversi account in questo caso potrai selezionare meglio questo segno di spunta oppure decidere in quanto amministratore di eseguire in maniera esclusiva soltanto gli aggiornamenti in modo che potrai decidere quali installare giusto per farti notare eventualmente hai l'opportunità di selezionare in quale giorno oppure in quale orario installare gli aggiornamenti ma come detto io opterei per questa opzione del tutto personale naturalmente quindi clicchiamo su ok per far acquisire questi aggiornamenti si avvierà la ricerca degli aggiornamenti la cui durata non sarà preventivabile dopo che il sistema operativo ha rilevato la presenza di aggiornamenti non ti resterà che cliccare sul pulsante installa si avvierà una procedura guidata di scaricamento e di installazione per quel che riguarda gli aggiornamenti disponibili naturalmente questo tempo è variabile in base alle situazioni se il sistema operativo non ha mai ottenuto un'installazione di aggiornamenti e è appena stato installato naturalmente dato che Windows 7 presenta un service pack 1 rilasciato dalla Microsoft ti verrà evidenziata una lista molto imponente come quantità di aggiornamenti da installare bene al termine della durata della verifica avrai un rapporto informativo che ti permetterà di scegliere se installare tutti gli aggiornamenti disponibili oppure cosa migliore quella di andare a cliccare sugli aggiornamenti importanti disponibili oppure quelli facoltativi per selezionare quali eventualmente installare in questo caso sono già selezionati tutti cliccando sul segno di spunte in alto a sinistra potrai deselezionare o riselezionarli tutti oppure andare in selezione parziale in base alle necessità dopo la selezione potrai leggere sulla colonna di destra quello che andrà ad eseguire il singolo aggiornamento come puoi vedere in basso a destra nella Sistray compare un'icona che ti allerta comunque che sono disponibili degli aggiornamenti nella colonna di destra trovi anche il peso del singolo aggiornamento in questa fase ne trovi all'inizio così tanti in quanto questo specifico sistema operativo ed eventualmente quello che è appena installato non ha mai subito un aggiornamento dato che è virtualizzato io avevo preimpostato di non controllare gli aggiornamenti in modo da renderlo anche più leggero in quanto non lo utilizzo per il normale impiego della macchina del mio lavoro puoi scorrere con la barra di destra per andare ad individuare se ci sono aggiornamenti che eventualmente potresti escludere faccio un esempio io non utilizzo né Internet Explorer né Windows Defender quindi potrei decidere di non installare questi componenti quindi potrei installarli tutti e deselezionare questi due componenti cliccando su ok verrà acquisita l'impostazione di selezione di quasi tutti questi aggiornamenti che successivamente verranno installati gli aggiornamenti che non vuoi installare è bene che li escludi dalla visualizzazione come puoi fare cliccando sull'aggiornamento con il pulsante destro sarà sufficiente cliccare poi sul pulsante nascondi aggiornamento e nella successiva azione di controllo questi due aggiornamenti non saranno più visionati ora per semplicità deselezioniamo tutti gli aggiornamenti e selezioniamone soltanto uno abbastanza leggero per poter farti vedere cosa eseguirà in seguito questo aggiornamento quindi clicchiamo su ok per far acquisire questo singolo aggiornamento stesso discorso può accadere con gli aggiornamenti difficoltativi in questo caso come il precedente potrai scegliere di selezionarli tutti oppure in maniera granulare andare a selezionare solo quelli che ti necessitano anche in questo caso l'opzione di nascondere l'aggiornamento è attiva clicchiamo anche qui su ok per avviare l'installazione di questo aggiornamento come puoi vedere qui hai il feedback che hai selezionato un aggiornamento molto importante prima di installare questo aggiornamento andiamo a vedere gli altri pulsanti visualizza cronologia aggiornamenti ti viene riportato un rapporto informativo di tutti gli aggiornamenti che sono stati installati nel sistema operativo e un ulteriore pulsante aggiornamenti installati ti permette di elencare eventuali altri programmi sempre della Microsoft che sono stati aggiornati all'interno del tuo sistema operativo e potrai anche decidere di disinstallare il programma o l'aggiornamento in questo caso clicchiamo su no e torniamo alla pagina principale il pulsante ripristina aggiornamenti nascosti ti permetterà di ripristinare principalmente visionare ed eventualmente ripristinare gli aggiornamenti nascosti che in precedenza in questa lezione abbiamo appunto deciso di non far più visualizzare sarà sufficiente cliccare su quale aggiornamento vorrai ripristinare e in basso trovi il pulsante ripristina aggiornamenti in questo caso si avvierà una nuova ricerca di aggiornamenti e quindi torniamo alla condizione precedente di deselezionare tutti gli aggiornamenti e scegliere soltanto uno per mostrare cosa accade l'ultimo pulsante domande frequenti sugli aggiornamenti ti apre una guidalina che ti può fornire ulteriori informazioni della sezione Windows Update quindi terminiamo la lezione cliccando sul pulsante installa aggiornamenti per installare appunto l'aggiornamento che hai precedentemente selezionato ovviamente il tempo di durata è variabile in base a quanti aggiornamenti avrai selezionato potrai in qualsiasi momento decidere di interrompere l'installazione cliccando sul pulsante relativo benissimo al termine della fase di installazione avrai notificato che l'aggiornamento è stato completato con successo se non sono nati dei problemi e comunque hai sempre attiva l'icona che ti indica che sono disponibili dei nuovi aggiornamenti potrai anche chiudere questa sezione e cliccare sull'icona per visionare di nuovo gli aggiornamenti disponibili e introdurre nuove selezioni per completare tutti gli aggiornamenti ricorda che al termine del download e dell'installazione per completare l'installazione degli aggiornamenti ti verrà di norma richiesto un riavvio del computer e la durata dello spegnimento e della riaccezione sarà variabile in base a quanti aggiornamenti dovrai installare bene dalla prossima lezione avendo terminato questa decada ti fornirò nuove informazioni didattiche però prima il riepilogo e come sempre il quiz di verifica ora un forte saluto ciao a presto da Carlo e dalla prossima ciao a presto 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 ciao a presto